Primi importanti passi per l'annunciata riqualificazione di piazza della Repubblica nel centro del capoluogo di Rignano. Come annunciato dal sindaco Daniele Lorenzini nei giorni scorsi, hanno preso il via i lavori di smantellamento dello spremi a grumi. Questi lavori sono il primo step di un percorso, ha dichiarato il sindaco, che porterà i rignanesi a riappoprarsi di questa piazza. In questa settimana la ditta incaricata nel piano rispetto dei tempi ha iniziato la rimozione delle parti metalliche dell'ascensore che da lustri era inutilizzabile. Nei prossimi giorni continueranno gli interventi. Successivamente l'amministrazione comunale renderà partecipe la cittadinanza sul progetto di riqualificazione e di recupero degli spazi. L'intento dell'amministrazione è infatti quello di rendere questa importante area del capoluogo più fruibile da parte dei cittadini. E la struttura dello spremi a grumi rappresentava per così dire un ostacolo e anche un ricettacolo di sporcizia in tal unicasi di degrado. Insomma, fra non molto lo skyline di Rignano cambierà. Queste immagini finiscono definitivamente nell'archivio. Con soddisfazione dei cittadini che avevano costituito tempo fa anche un comitato apposito che chiedeva la demolizione dello spremi a grumi.